ciao come stai è un po di tempo che non ci si vede ragione ma il nostro negozio non ha chiuso anzi siamo tornati per i saldi sei venuto apposta lo immaginavo di cosa hai bisogno oggi di un vestito li vedi già lì anche io amo tantissimo i vestiti d'estate guarda con i saldi più o meno tutti i vestiti sia della collezione vecchia che della collezione nuova costano tra i 10 e i 20 euro quindi come sai i nostri prezzi sono assolutamente modici vuoi vederli cosa ti serve più o meno un vestito da sera da giorno da giorno quindi non da cerimonia nulla di particolarmente elegante vuoi proprio un vestitino fresco per questi tempi ti capisco benissimo allora vado a mio gusto conoscendoti come al solito ti faccio vedere più o meno quello che c'è perfetto allora iniziamo allora il primo vestito che ti faccio vedere è questo è un vestito in purulino ed è tutto rosso ovviamente le taglie ti faccio vedere quelle che sono in esposizione tu poi mi dici la tua taglia te la vado a prendere se le vuoi misurare e quindi dopo vediamo non ti preoccupare va bene allora questo è fatto così arriva sotto il ginocchio è molto largo però non fa effetto tendone perché ha il cinturino questa specie di nastrino che si stringe dietro è molto semplice a diciamo l'unica particolarità è questa specie di di vola sul seno ma è molto molto semplice e che arriva qui sulla spalla ti potrebbe piacere questo? ok allora vediamo il prossimo non hai neanche preferenze sulla lunghezza guarda questi sono tutti tra sopra il ginocchio e sotto il ginocchio tu hai qualcosa di particolarmente corto? no? ok allora con questi sei a posto ti faccio vedere il secondo ok? allora ti ho preso questo qui che conoscendo di potrebbe piacere perché è con questo modello merlettato che si porta molto quest'estate è molto scollato perché sono le bretelline come vedi arriva sotto al ginocchio anche questo stringe in vita qui con la molla e giù finisce così si ha questo ricamo verso la fine anche questo è molto semplice e ti assicuro che è molto molto fresco molto carino ti piace? questo piace molto anche a me quindi questo te lo metto da parte la taglia la taglia no mi sa che ci vuole una taglia più piccola per te quindi poi te la vado a prendere ok ti faccio vedere un altro allora questo è tutto fucsia so che ti piacciono i colori sgargianti ok e anche questo ha la semplice particolarità di avere semplice particolarità forse è uno simuro vero? vabbè facciamo finta che non ho detto niente ha la particolarità di avere questo ricamo qui è a giro maniche ma che questo stringe sempre in vita senza bisogno di cinture e nulla perché ha il nastrino e la e voilà ci sono anche sotto e anche questo finisce così sì diciamo che come stile è molto simile al bianco però è fucsia e anche questo finisce sotto il ginocchio è molto simile al bianco solo che è un po' più accollato diciamo sì perché quello ha solo i bretellini ti assicuro però che sta molto bene d'estate sì tu ti abbronzi ancora devi andare al mare ci andrai? vabbè non è obbligatorio andare al mare d'estate non ti preoccupare ok quindi questo ti piace? sei in dubbio tra questo e il bianco sì sono molto simili ok ti faccio vedere un altro allora questo qui è a tre quarti ha una fantasia floreale è molto scollato qui anche questo stringe in vita e arriva sotto al ginocchio giù non è niente di particolare è la stessa fantasia lungo tutto il vestito e guarda questo di sera è molto portabile perché di sera non fa tanto caldo quanto durante il giorno durante il giorno morireste sicuramente però di sera secondo me è molto portabile soprattutto in questi giorni dove c'è molto vento però considera che qui è molto scollato e ha una clip si ha sempre la molla in vita ti piace? ma non è finita qui te ne faccio vedere altre aspetta allora adesso te ne faccio vedere due che sono lo stesso modello cambia solo la fantasia in pratica ok questi arrivano sopra il ginocchio sono molto semplici sono quasi tutti estremamente semplici e niente è il blu con i pois stringe in vita è aderente sul busto sulla parte superiore stringe in vita poi giù scende molto morbido vedi questo anche è molto molto pratico d'estate e ce l'ho anche con questa fantasia qui fiorata questo blu magari non so sì di sera credo sia più indicato perché è scuro ma alla fine ormai ognuno mette quello che vuole e quando vuole io per esempio lo metterei anche di giorno un blu con i pois quindi era come una volta che non si poteva abbinare il blu con il nero il nero il marrone ma ormai tutte queste cose fortunatamente non ci sono più sì ti faccio vedere anche questo con i fiori ti piace? io appena vedo i fiori mi innamora non so te piacciono anche te? perfetto è uguale a quello ti ho detto dietro è un po' più scollato però comunque copre il reggiseno sì sì ti piacciono? anche qui sceglierai tra questo o il blu va bene te ne faccio vedere altri allora anche qui ti faccio vedere due che sono più o meno lo stesso modello uno fa parte di una collezione più vecchia uno di una collezione più nuova quindi c'è una differenza minima di prezzo ma ti ho detto la fascia è sempre quella e penso siano gli ultimi che ti faccio vedere sono molto carini hanno una fantasia etnica sì un po' azdeca allora questo è quello più vecchio ha molti molti colori allora questo è un po' più sbracciato come vedi non ha la classica scollatura infatti dietro è così sì si vede il reggiseno perché considera che il reggiseno arriva qui è caduta la stampella dell'altro vestito non ci farei caso considera che il reggiseno arriva qui sì allora questo arriva sotto il ginocchio stringe sempre in vita è più aderente sul busto sì più o meno il concetto è sempre quello ed è uscendo morbido allora ce l'ho con questa fantasia così dentro te l'ho fatto vedere praticamente è simile al davanti e quest'altro che ha perso la stampella è così questa è una fantasia un po' più scura ed è una collezione dell'anno successivo però ricorda sempre molto l'Africa il tribale sì i colori sono il nero il marrone come vedi qui sono messi insieme gli africani non fanno caso agli abbinamenti come noi fanno bene e c'è anche un arancione rossastro poi un avorio sì sono questi colori e dietro però ha questa specie di foro le maniche sono come quello è un po' più accollato cioè copre un po' più la parte del reggiseno però lo scollo è sempre un simile sotto è uguale ti ripeto stringe in vita e poi scende morbido sotto al ginocchio anche questo allora penso di averte rifatti vedere più o meno tutti recupero la stampella un attimo solo ok fatto adesso dimmi tu quale vorresti misurare e ti vado a prendere la taglia allora ti piace quello bianco ok quindi quello bianco e quello fiorato più corto va bene ti vado a prendere la tua taglia allora te li ho presi a onor del vero ti voglio ricordare che sono tutte e due a base bianca hai fatto caso a questa cosa non ti importa perfetto così mi piaci allora questo è la tua taglia si controllo eh si è la tua taglia tieni e quest'altro anche mi sa allora tieni io ti aspetto qui vai fai con calma non ti preoccupare fai tutti i selfie nel camerino tutto quello che vuoi manda le foto alle amiche chiedi come ti sta lo so facciamo tutte così è normale ci vediamo dopo ok hai fatto? ti piacciono tutti e due dimmi che cosa dicono allora li puoi prendere ok allora guarda vengono 10 euro ciascuno quindi sono 20 giusti ok grazie ecco a te lo scontrino noi ci vediamo alla prossima mi raccomando torna ancora con i saldi fatti un altro giretto ok ciao